Ciao ragazzi, ci siamo, è praticamente Natale e questo JJ Inside sarà un regalo per voi. Ci facciamo la canzone di Natale? Dai, proviamoci. Ciao ragazzi, ciao. 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 Ciao ragazzi. Non dimenticate di schiacciare subscribe così vi iscrivetevi al canale. Fate like anche alla mia pagina di Facebook. Buon Natale ancora a tutti. Grazie. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.